Harley Davidson 2018, siamo in Spagna per provare 4 degli 8 nuovi modelli della famiglia Softail che va a sostituire definitivamente la famiglia Dyna che esce dal listino. Anche le V-Road non saranno più a listino nel 2018, ma abbiamo comunque un sacco di novità su queste Softail. Harley Davidson quindi celebra i suoi 115 anni nel 2018 rinnovando completamente la gamma. Andiamo a vedere quali sono le novità. Sicuramente il nuovo telaio, un tubolare in acciaio molto più leggero e compatto che porta a queste Softail una grande maneggevolezza e una notevole riduzione di peso. La novità anche e soprattutto per quanto riguarda le sospensioni. All'anteriore abbiamo una forcella Showa Dual Bending, mentre al posteriore non abbiamo più il classicissimo doppio ammortizzatore che siamo abituati a vedere su queste moto, ma abbiamo un mono sempre Showa regolabile nel precarico con questo pomellone semplicissimo qui sotto la sella. Novità anche per quanto riguarda l'estetica, quindi non solo per la parte tecnica. Su tutte le Softail abbiamo un nuovo faro a LED e una nuova strumentazione. La Street Bob, la Fat Bob, la più aggressiva Breakout e la turistica Heritage Classic. Partiamo con la Street Bob che, come vedete, proviamo sotto la pioggia. La Street Bob resta tra tutte le Softail e quella che resta più fedele a se stessa, nel senso che si presenta con, vedete il suo bel manubrio alto e i panger, la linea smizza e sottile. La posizione in sella è un pochino innaturale, per dire il manubrio sì che è alto, ma anche per la posizione delle pedane, perché normalmente quando abbiamo il manubrio così alto e avanzato su questo tipo di moto, ci aspettiamo di trovare le pedane un po' più avanti. Invece qui sono arretrate con le i panger, quindi è una posizione che forse a lungo andare rischia un pochino di stancare. Nonostante questo, la Street Bob, essendo comunque la più piccolina e la più leggera tra tutte le nuove Softail, si guida benissimo. Non è una moto per i grandi viaggi, non abbiamo protezione dall'aria e neanche dall'acqua in questo caso. È una moto da tutti i giorni, una moto da raduno della domenica, è una moto che è perfetta per essere customizzata, o comunque per avvicinarsi alle Harley senza troppo impegno, per avvicinarsi alle Softail. Cambiamo totalmente stile e genere, siamo sulla Breakout 2018, la cattiva, quella che a me piace definire la cattiva, ora direi anche insieme alla Fat Bob, della gamma Softail. Abbiamo il manubrio Dragbar, largo, molto largo, lo vedete, le pedane avanzate, e un'ergonomia che costringe il guidatore a guidare di forza, proprio di braccia, a fare leva sul grande manubrio. Tra l'altro, le leve della frizione e del freno non sono esattamente di burro, e nei cambi di direzione si sente anche parecchio il peso di questa motona. La luce a terra è scarsissima, dopo quattro curve avrete limato completamente i piodini delle pedane. Se esagerate, si arriva anche al cavalletto e al terminale di scarico. è una moto comunque bellissima da vedere di sicuro nel suo genere, è aggressiva, ha un motore corposissimo, veramente godurioso, però è una moto impegnativa. Non è una moto da signorina, ecco, lasciatemelo dire. Sicuramente è la degna erede del lavoro, dato che l'anno prossimo esce di listino. Però è una moto davvero di duri. Altro grande cambio di genere, stiamo provando quattro moto totalmente diverse tra loro, nonostante appartengano tutte alla famiglia delle softel. Siamo sulla viaggiatrice del gruppo, sulla Heritage Classic, che mi ha sinceramente davvero stupito, rispetto al modello precedente, e rispetto anche all'aspetto grosso e importante che ha, per la leggerezza e la maneggevolezza. Il nuovo telaio la rende davvero agile tra le curve e comunque stabile alle alte velocità. È una moto che è comoda in due, ha le due belle borse capienti, quindi è perfetta per chi vuole viaggiare, senza l'impegno di una touring, ma con più o meno lo stesso comfort. Tra l'altro, il parabrezza è removibile in pochi secondi e senza bisogno di attrezzi. Quindi, quando si vuole prendere la moto per il giro della domenica, il track si toglie in un secondo. Ha la frenata un po' lunga, per via probabilmente del peso importante della moto stessa e del disco singolo all'anteriore, che troviamo su quasi tutte le Harley Davidson. Però è la moto che personalmente trovo più bella e più equilibrata. È veramente una moto tutto fare. Il giro della domenica ci si può andare al bar, ci si può fare il lungo viaggio con la fidanzata. Ultima, ma non ultima, la novità forse più importante della gamma soft 2018, una rinnovata, rinnovatissima Fat Bob, dall'area decisamente più moderna, soprattutto grazie anche al faro a LED anteriore molto particolare. Una moto che a me piace definire una piegatrice, tra tutte, è quella che ama di più il misto e il misto stretto. È una sorta di breakout, sì, perché ha il grande manubrio drag bar, ma è molto più facile da guidare e anche molto più svelta tra le curve. L'unica cosa, il freno anteriore, che tende, anche se sfiorato per correggere la traiettoria, a raddrizzare tanto la moto, quindi è consigliabile, nel misto stretto, correggere tutte le impostazioni col posteriore. Molto meglio la luce a terra, rispetto alla sorella breakout, ma anche qui, se cominciate a prenderci gusto, dovete dire addio ai fiolini delle pedane. Quattro moto che hanno tanto in comune, a partire dal nome, dalla famiglia, le softel, tanto in comune a livello tecnico, completamente diverse tra loro per l'aspetto, completamente diverse tra loro sulla strada. I nuovi motori Milwaukee 8, sia il 107 che il 114, hanno una coppia spaventosa d'aeroplano, veramente, e molte, molte meno vibrazioni. Il telaio tubolare, ha fatto scendere di parecchio l'ancetta della bilancia, per tutti i modelli, alcuni addirittura 15-16 kg in meno. E si sentono tutti, perché sono tutte moto che davvero mi hanno stupita, per quanto riguarda la piacerezza, che non è una parola che si associa sempre alle Harley. Ottimo lavoro anche sulle sospensioni, la forcella Showa lavora alla grande, e il mono regolabile, rispetto al doppio ammortizzatore di vecchia generazione, garantisce un comfort davvero mai visto su un Harley. Per tutte, un unico difetto, la frenata, sempre un po' troppo blanda per la mole, e la potenza adesso di queste moto, di queste moto. Per i prezzi, e tutti i dettagli un po' più tecnici, vi rimando alla prova su moto.it. Grazie a tutti.